Come definirebbe il terrorismo? L'attuale definizione è individuo o gruppo che usa la violenza per raggiungere un obiettivo politico. Il governo ritiene che i cartelli della droga rientrino in questa definizione. Volete arrivare fino in fondo? Allora dovrò sporcarmi. Ti lasciamo libero. Quanto libero? Nessuna regola. Adios. Mi aiuterai a scatenare una guerra. Contro chi? Contro tutti.